Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Salvatore Salomone, d'arte e cose simili. È stata la prima edizione lo scorso anno, subito dopo la pandemia e il lockdown, quest'anno una seconda edizione, ancora con altri artisti che si sono uniti. Sì, l'anno scorso abbiamo proposto per la prima volta l'evento, è andata abbastanza bene e quest'anno la stiamo riproponendo con ancora più ricca. Cioè ci sono ancora più artisti che esporranno le proprie opere. Opere che sono il frutto di hobby, sono cose varie, diciamo, non diciamo di cosa si tratta esattamente, perché chi vorrà potrà venire a vedere, ma quando l'hobby diventa una vera e propria arte. Perfettamente. Noi riuniamo sotto il cielo magico del Museo delle Stelle persone come me che hanno fatto arte del proprio hobby. Ci sono artisti etereogeni, si va da chi dipinge, da chi fa piccole sculture, da chi restituisce vita e anima al legno, da chi fa fotografia. Insomma, veramente un parco grandissimo di artisti. Artisti, quindi non solo si potrà vedere quello che fanno gli artisti, ma è proprio una serata al Castello Incantato, per chi vorrà vedere e potrà venire a vedere. Assolutamente, è una serata tra amici, sarà una serata di intrattenimento con teatro. Quindi rinnoviamo l'invito, diamo anche l'orario. L'orario è alle 20 e 30, mi raccomando muniti di green pass oppure di tampone fatto nelle 48 ore precedenti l'evento. Questo è importante. Sì, molto. L'orario è alle 20 e 30, mi raccomando.